L'intelligenza artificiale è una tecnologia che sta trasformando il mondo in cui viviamo. Con l'innovativo sistema frenante Sensify, Brembo ha portato l'IA nel settore automobilistico. Questo sistema all'avanguardia combina l'intelligenza artificiale con i componenti frenanti di Brembo, aprendo nuove possibilità per migliorare la sicurezza e il piacere di guida. Immagina di avere un sistema frenante che si adatta alle tue esigenze. Con Sensify, Brembo ha reso questo possibile. Non è solo un insieme di parti, ma un vero e proprio ecosistema in cui l'intelligenza artificiale e il software giocano un ruolo attivo. Grazie alla raccolta dei dati, il sistema può essere costantemente aggiornato per offrire prestazioni ottimali in base al tuo stile di guida. Sensify offre un'esperienza di guida unica. Una risposta intuitiva, reattiva e stabile che ti dà un controllo eccezionale. Ma non è tutto. Sensify è anche più sostenibile dal punto di vista ambientale, poiché riduce al minimo le emissioni grazie all'azione frenante ottimizzata su ogni ruota e all'assenza di resistenza tra pastiglie e dischi. Nato dalla crasi delle parole Sense e Simplify, Sensify non solo richiama la capacità innata di percepire segnali esterni e stimoli, ma è anche estremamente versatile. Progettato per adattarsi a qualsiasi tipo di veicolo, dalle super sportive alle city car, questo sistema frenante all'avanguardia può essere integrato sia sui veicoli elettrici, sia su quelli con motore a combustione interna. Offrendo dunque alle case automobilistiche anche nuove opportunità per il design delle auto e consentendo loro di creare veicoli ancora più sicuri, performanti ed efficienti. Sensify è il risultato della naturale evoluzione dell'esperienza e del know-how di Brembo nel settore frenante, combinando il design dei migliori componenti della casa bergamasca con un sistema di controllo digitale e di sensori che gestiscono ogni ruota in modo indipendente. In sintesi, Sensify è un sistema intuitivo, reattivo e fluido che ti permette di goderti appieno la tua esperienza su strada, poiché offre il meglio dei due mondi di cui fa parte. Il massimo del piacere di guida è tutta la garanzia di una sicurezza totale. Con la sua visione Turning Energy into Inspiration, Brembo continua a fornire soluzioni all'avanguardia, intelligenti e sostenibili per l'industria automobilistica. E Sensify è un'ulteriore dimostrazione di questo impegno. È l'intelligenza artificiale che ti guida verso il futuro. Non so mi relazia. EENSFERENAL NO MO어�A Grazie.